In mostra al Maxi di Roma le storie degli architetti italiani all'estero, l'antifascista Lina Bobardi e il suo Museo dell'Arte Contemporanea di San Paolo in Brasile, il curatore della mostra Pippo Ciorra. Questa è una storia meravigliosa che è quella di Lina Bobardi. Lina Bobardi era la moglie di un famoso critico di architettura italiana degli anni 30 e 40 che si chiamava appunto Pietro Maria Bardi, antifascisti. Loro dopo la guerra in realtà si fanno affascinare da questo scenario progressista che c'era in Sud America, si spostano in Brasile e diventano due figure cruciali del dibattito artistico e architettonico del Brasile. Fanno un sacco di progetti insieme tra cui questo che è il Museo d'Arte Contemporanea di San Paolo che è un progetto straordinario in cui i due lavorano insieme sia sul progetto curatoriale del museo che sull'edificio e poi in quella potenza che c'è nell'architettura brasiliana la Bobardi aggiunge questa sensibilità italiana e arriva a livelli veramente altissimi.